Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati, tantissimi, non tutti qui in Sala Grande, cioè ci sono delle colonne sparse anche in altre sale. Questa sera siamo qui con Cecilia Sala che non ha bisogno di presentazioni, si dice in questi casi, giornalista del foglio, podcaster, stories e il suo podcast per Coramedia con una storia dal mondo ogni giorno e autrice di questo libro, L'incendio, edito da Mondadori nella collana Strade Blu, che insomma sarà la base della nostra discussione di questa sera. Intanto benvenuta a Cecilia, bentrovata, grazie di essere qui. Volevo partire con te da una domanda se vuoi banale, ma questo è un libro che contiene dei reportage su una generazione, tu scrivi nel sottotitolo, qui vediamo un po' di immagini, di fotografie che tu hai scattato in questi tre paesi, e questi tre paesi sono appunto Iran, Ucraina e Afghanistan. Ci racconti perché hai scelto questi tre paesi o se, come dire, non c'erano alternative a raccontare questa generazione attraverso questi tre posti del mondo? Allora, sono i miei viaggi degli ultimi tre anni, sono tre posti che hanno colpito, credo, in modo diverso, tutti, anche quelli non affatto appassionati di geopolitica o di politica estera. Quello che è successo a Kabul il 15 agosto 2021 è un incendio riconoscibile, è un incendio che ha sconvolto e sorpreso il mondo, che non si aspettava nessuno, che non si aspettava neanche la CIA. Si sapeva che dopo gli accordi di Doha, voluti dall'amministrazione di Donald Trump, ma in realtà, diciamo, magari non nella modalità in cui sono stati iscritti, però il desiderio di un ritiro dall'Afghanistan, dalla guerra più lunga degli Stati Uniti d'America, era abbastanza trasversale ormai negli Stati Uniti. Quindi si sapeva con quegli accordi che in qualche forma l'Afghanistan sarebbe stato parzialmente riconsegnato ai talebani, non nella modalità in cui è successo. Quello che si aspettava anche l'intelligence americana era che i talebani avrebbero conquistato una porzione del paese e quindi ci sarebbe stata una porzione di Afghanistan che continuava a vivere secondo le regole che sono state in vigore dal 2001, dall'invasione al 2021, oppure, e quindi che talebani avrebbero preso Nangarara, insomma alcuni territori dove sono sempre stati forti prima di conquistare il potere nel 96 e prima di riconquistarlo nel 2021, oppure ci si aspettava un governo che includesse varie fazioni, tutte le fazioni, una specie di governo di larga intese in salsa afghana, anche i talebani, anche i rappresentanti di altre etnie, di altre minoranze, anche i talebani, ma non un governo talebano. Quello che succede ad agosto del 2021 ci sconvolge all'improvviso su un paese che era un po' sparito dalle cronache, c'è un'attenzione enorme, giustificata perché è un fallimento ovviamente della coalizione internazionale, un fallimento dell'Afghanistan stesso, della Repubblica Afghana, con delle immagini che sono indimenticabili, quelle degli afghani che corrono all'aeroporto Amid Karzai, all'aeroporto internazionale di Kabul e pur di scappare sono pronti ad attaccarsi alle ali e carrelli, alle ruote di aerei, a Air Force in fase di decollo, per poi schiantarsi al suolo. Ho le immagini dello stesso aeroporto in cui c'è un attentato dello Stato Islamico, dell'ISKP, che è il nome dello Stato Islamico in Afghanistan, dove muoiono 180 civili afghani e 13 soldati americani, e quello che vediamo un secondo dopo è che le persone hanno talmente voglia e bisogno di scappare che si accalcano, pur avendo ormai capito benissimo qual è il pericolo di restare lì, quando ancora non è stato pulito il sangue e non sono stati sgomberati tutti i cadaveri. Tutti noi, a prescindere dal nostro interesse personale per quello che succede in Iran oppure no, dalla nostra passione per la geopolitica, per la politica estera o meno, conosciamo la storia di Massa Gina Mini, sappiamo che in Iran tra settembre dell'anno scorso e il settembre di quest'anno è successo qualcosa che ci ha sconvolti, sorpresi, magari anche appassionati, anche se può sembrare un termine inadatto al contesto, ma secondo me non lo è, con una protesta di cui i ventenni iraniani sono protagonisti, che non ha precedenti da quella molto partecipata del 79 che tirò giù la monarchia e fece nascere la Repubblica Islamica. Tutti siamo rimasti sconvolti dall'invasione decisa da Vladimir Putin il 24 febbraio, all'alba del 24 febbraio 2022 dell'Ucraina. Credo che pochissimi di noi, o forse nessuno di noi, si aspettasse, che fosse possibile, si aspettasse una guerra in Europa in stile novecentesco con un esercito che utilizza armi convenzionali, che varca un confine per appropriarsi del territorio altrui. In realtà per fare qualcosa di molto di più, di prendersi il territorio dell'Ucraina, non c'è nulla di vantaggioso nel conquistare il territorio dell'Ucraina per la Russia, non è una questione di territorio, è una questione di ristabilire un altro tipo di ordine, in cui la potenza si misura sulla capacità di imporre la propria violenza al mondo e per Putin l'invasione dell'Ucraina, se fosse stata di successo, doveva essere il tornare ad essere un impero, il tornare a fare paura, il tornare ad essere percepito una grande potenza e parlare più ad armi pari con l'Europa, con l'Occidente, come aveva smesso di fare da un po', di riuscire a fare da un po'. Sono tre incendi perché sono tre vicende che ci hanno sconvolto, che sono successe più o meno lontane da noi, ma abbiamo capito chi tra noi si era illuso, diciamo il mondo avesse ancora tantissimi difetti, ma più o meno certe cose non sarebbero più successi o sarebbero successe sempre di meno, che il mondo tendeva ad essere il mondo globalizzato, un pochino, almeno di giorno in giorno un pochino più pacifico, un pochino più tranquillo, che appunto il rischio di una guerra atomica fosse appartenuto alla generazione che ha vissuto la guerra fredda, fosse archiviato e che una guerra con armi convenzionali fosse qualcosa di irripetibile, abbiamo scoperto di avere sbagliato e abbiamo visto gli esseri e quello che succede fuori dai nostri confini e quindi tornare prepotentemente sulle prime pagine dei giornali nelle nostre vite e produrre conseguenze concrete per tutti noi. Cecilia, facciamo allora un viaggio attraverso questi tre incendi che bruciano il mondo, come tu scrivi, e guardando anche alla generazione, cito, che tra quelle fiamme sta diventando grande, che tra l'altro vi svelo, poteva essere il sottotitolo del libro, vero? Poi siamo andati su un sottotitolo più... Sì, perché non c'entrava. Lorenzo è stato partecipe della fase della scelta del sottotitolo. Venendo sconfitto poi, perché giustamente insomma c'è chi ne sa più di me e ne capisce di più. Ma più che altro perché appunto si è imposta la necessità di sintesi. Di spiegare subito quali sono questi tre paesi, quali sono i teatri di cui ci racconti. Ma volevo andare sul primo capitolo. Il primo capitolo è dedicato all'Iran e devo dire, abbiamo visto un po' di immagini tra l'altro di tuoi viaggi in quel paese. La cosa che mi ha colpito di più di questo capitolo, tra l'altro ricorre un anno proprio in questi giorni, lo dicevi anche tu, da settembre 2022, dallo scoppio delle grandi proteste, della grande mobilitazione seguita diciamo solo all'ultimo dei molti soprusi di quel regime. Ma la cosa che mi ha colpito, dicevo all'inizio del tuo capitolo, tu cerchi in questo libro anche di smontare percezioni diffuse, falsi miti che noi da lontano abbiamo magari su paesi che conosciamo poco. Ad esempio sull'Iran tu dici, insomma c'è una semplificazione molto comune nei fatti infondata, cioè che il potere in Iran sia perfetto. E fai degli esempi, insomma non è vero che gli ordini raggiungano sempre l'esecutore, non è vero che il clero in Iran sia unito, non è vero che la censura sia sempre efficace. E fai molti di questi esempi. Noi secondo me da qui abbiamo invece la percezione che l'Iran sia un po' monolite, a cui tutto sfugge, a cui, scusami, nulla sfugge, tutto è invece nella presa saldissima del regime. Non è così. Ci sono foto, che non so se sono tra queste, ma prima ne commentavamo alcune, sono foto scattate in Iran che sembrano scattate in Occidente. Tanta è la libertà apparente delle persone in quelle immagini. Sì, infatti quando prima parlavo della nostra sorpresa rispetto a questi tre incendi, è anche dovuta, un po' avvengono nel mondo cose sconvolgenti, un po' è dovuta anche al fatto che noi ci perdiamo tantissime puntate, quindi è un po' come se cominciassimo a vedere una serie televisiva dalla puntata 8. Ci sembra sorprendente quello che è successo in Iran, perché non abbiamo visto, non abbiamo prestato attenzione a quello che è successo prima in Iran. Noi abbiamo quest'immagine che è quella ufficiale, cioè è esattamente quella che gli Ayatollah vorrebbero proiettare all'esterno, di un paese ordinato, rigido, dove tutti rispettano i vincoli e le regole, anche perché questo è vero, le punizioni altrimenti sono molto dure, di donne in shador e uomini e classe dirigente che indossa il turbante. Tante cose che, se noi vedessimo le fotografie del 79, cioè del momento della rivoluzione che fa cadere la monarchia, vedremmo che nelle piazze iraniane, a partecipare a quella rivoluzione che poi ha portato alla Repubblica Islamica che c'è oggi, c'erano strade, piazze piene di donne senza velo. E se noi oggi girassimo per Teheran Nord, vedremmo delle pasticcerie o dei luoghi per l'aperitivo che assomigliano a quelli di Milano e ragazze vestite come a Torino, a Milano, a Roma. La società iraniana è molto diversa da come il regime vuole farla vedere e vuole fingere, continuare a fingere che sia. L'altro giorno ascoltavo questa iraniana, che è una professorista iraniana che dirige la facoltà di giornalismo internazionale all'Università di New York, e diceva, era un panel in occasione dell'anniversario della morte di Massa Gina Mini e quindi dell'inizio delle proteste, lei diceva, quello di cui non ci si rende conto, in particolare negli Stati Uniti, ma in generale in Occidente e anche in Europa, è che l'Iran è il paese più secolarizzato del mondo islamico. E faceva questo esempio buffo, ovviamente, per poi scendere anche in altri dettagli, ma è il paese del mondo islamico dove si vendono più barbie senza il velo, c'è anche la versione della bambola barbie con l'ijab, l'Iran è quello in cui si vendono più barbie senza il velo, rispetto, la differenza è più ampia, con quella invece con il velo. Anche più della Turchia, cioè Girand, che per noi invece è il paese del mondo islamico più secolarizzato di tutti, se uno gira per i villaggi turchi, il colpo d'occhio è di un paese più conservatore dal punto di vista religioso, di quello che ti fai girando per l'Iran. L'Iran è famosissima, Teheran in particolare è famosissima per le sue feste, per i suoi rave, per il divertimento, che è nascosto ma non realmente proibito. Le persone che finiscono in carcere in Iran perché fanno delle feste, delle feste che sono identiche a quelle di Berlino, a quelle di Torino, sono persone che vengono incastrate perché bevono, perché si drogano, perché si divertono, perché sono anche dei dissidenti politici. E' un modo per incastrare una resistenza politica, altrimenti è assolutamente tollerato, banalmente perché è un fenomeno troppo diffuso per pensare di contenerlo con la forza, il divertimento in Iran. E alcune di queste feste, di questi personaggi, di questi ragazzi, sono raccontati nel libro. Vedere l'Iran con questa lente e non con quella che gli Ayatollah vorrebbero presentarci o vorrebbero imporci, aiuta a capire cosa è successo nell'ultimo anno. Se ci fosse un grandissimo consenso in Iran al fatto che le ragazze che non indossano il velo non lo indossano bene, possano essere punite, picchiate, arrestate e magari morire, come nel caso di Massamini, non ci sarebbero stati cortei diffusi ovunque nel paese, persistenti come ce ne sono stati. I cortei che non erano soltanto i cortei, era il fatto che alle medie, nelle scuole medie iraniane, le ragazzine si presentavano senza velo e se il professore maschio diceva rimettetevi il velo, lo aggredivano e lo costringevano ad uscire dalla classe. Anche le donne religiose, adulte, che ovviamente ci sono in Iran e che indossano fieramente il loro velo, non sono affatto d'accordo che alle loro figlie come una massagina mini che invece non vogliono più farlo, che non ci credono altrettanto, quel velo venga imposto con la violenza. Il caso Massamini ha sconvolto e traumatizzato tutta la società iraniana, quasi tutta, c'è una minoranza di principalisti, cioè di conservatori militanti che non la pensa così, ma è una minoranza, molto radicale, ma anche molto piccola. Questa protesta è stata fatta dai giovani perché hanno il coraggio di assumersi i rischi che si sono assunti i manifestanti, di essere picchiati, di essere arrestati, di essere giustiziati, di morire in piazza o di ricevere un proiettile di gomma nell'occhio che ti rende cieca, ma avevano una solidarietà diffusa e quando vedevamo quei cortei, quei cortei funzionavano, non li hanno arrestati tutti al primo corteo, come invece era successo nel 2019, quando 48 ore di sangue in piazza sono stati sufficienti per stroncare sul nascere un'altra grande protesta. Questa volta tu vedevi i cortei, le cariche della polizia, i manifestanti che ovunque, a chiunque citofonassero, dentro quelle case, dentro quegli appartamenti, in quei palazzi, aprivano o nei negozi e tutti i manifestanti si sparivano da un momento all'altro, si rifugiavano nei cortili e si salvavano. Insomma, teniamo presente che in Iran il 70% della popolazione universitaria è fatta da ragazze, le donne iraniane sono ultra emancipate, anche nelle materie STEM, quelle dei politecnici, quelle scientifiche tecnologiche che nel mondo, non soltanto in Italia, in Italia in modo clamoroso, ma nel mondo è così, sono a stragrande maggioranza dominate dagli uomini, in Iran sono dominate dalle donne. Le ragazze iraniane non sono, c'è una scissione profondissima tra quelle che sono le regole in vigore e quelle che sono, che è la realtà ormai di una generazione che non si è mai abbeverata alla propaganda di Stato, che non guarda la televisione di Stato per informarsi. Tutti in Iran usano il VPN, la censura esiste, ma è sostanzialmente inutile perché da una certa età in giù chiunque sa prendere le informazioni dove vuole guardare le serie televisive che guardiamo noi e raccogliere le stesse informazioni che possiamo raccogliere noi. Questa grande protesta è un esempio di questa frattura che è stata tenuta nascosta per un periodo non agli osservatori e agli analisti che si occupano soltanto di Iran ma al grande pubblico e che è venuta fuori clamorosamente nell'ultimo anno. Poi non c'è stata una rivoluzione? No, io sinceramente non mi aspettavo che ci fosse una rivoluzione. L'Iran è un paese dove l'economia è al 100% nelle mani l'economia ufficiale l'economia fatta dalle aziende di Stato e dalle aziende private che in realtà sono delle finte aziende private che rispondono a delle fondazioni a delle holding che rispondono sempre ai pass da Iran e al clero quindi a quelli che governano in un paese dove chi ha il potere ha quasi il 100% dell'economia e il 100% delle armi diciamo non è semplicissimo dal punto di vista pratico che cambino le cose dal punto di vista politico ma dal punto di vista della società e della cultura sono questa frattura è evidente e secondo alcuni Pasdara negli stessi media degli Ayatollah è insanabile nei loro carteggi interni che noi abbiamo trovato dal 2009 si dicono ci siamo persi giovani quindi il futuro non ci capiscono più non ci seguono più e visto che i giovani già oggi gli under 35 in Iran sono il 70% della popolazione vi rendete conto che per un governo è un problema grosso non è non stiamo parlando ecco di una di una piccola minoranza c'è una cosa sempre sull'Iran che volevo chiederti c'è un punto piuttosto interessante in cui racconti che mentire fingere l'inganno in occidente sono tendenzialmente considerati un disvalore e invece in Iran no anzi sono sono un valore a loro modo ci racconti perché volevo chiedere tra l'altro Andrea in regia se torniamo sul tappo sul tappo perché le foto le abbiamo viste e riviste grazie allora questo è un racconto che mi fa una ragazza iraniana che si chiama Anabila che è una ragazza conservatrice è una ragazza che ai nostri occhi è piena di contraddizioni ma lei ti spiega con quello che tu Lorenzo stavi dicendo che in realtà le sue caratteristiche che a noi sembrano incompatibili in realtà nel suo mondo nella sua cultura sono compatibili è una ragazza conservatrice fedele alla Repubblica Islamica anche lei io ho due conversazioni nel libro e le ho avute ovviamente nella realtà il giorno in cui è morta Massamini una con una mia amica iraniana dissidente una con una mia amica iraniana conservatrice che è Nabila quel giorno per la prima e l'ultima volta entrambe mi dicono sostanzialmente le stesse cose hanno la stessa reazione a quel fatto e a quella tragedia Nabila è una ragazza che crede nella Repubblica Islamica che non la mette in discussione che vorrebbe vedere ad esempio sparire la polizia religiosa ma non cambiare il sistema istituzionale politico del suo paese e al contempo è una ragazza che ha i piercing la schiena completamente tatuata i capelli tinti di fucsia a cui piacciono le altre ragazze cosa di cui parla segue tantissime influencer atlete occidentali e non soltanto lei fa di mestiere la campionessa di kickboxing quindi fa la lottratrice con incontri in giro per il paese cosa che è assolutamente consentita alle donne in Iran se qualcuno non lo sapesse o se lo chiedesse e a noi può sembrare una contraddizione lei invece ti dice per me cioè qui nel mondo nella nostra Repubblica Islamica Scita l'importante è che ci sia una netta separazione tra il pubblico e il privato il pubblico lo vogliamo rigidamente regolato il privato se io dentro le mura di casa mia faccio quello che mi pare non è un problema e non è una contraddizione non è ipocrisia e questo e anche questo rispetto delle libertà coltivate nel privato si vede con girando per Teheran dove come potete immaginare essendo una Repubblica Islamica in tutto l'Iran è vietato il consumo di alcolici in realtà girando per il nord di Teheran per l'ovest e per il nord di Teheran sono tutte queste villette tutti hanno il giardino e tutti hanno la vigna in giardino non perché sia la pianta più bella ma perché tutti si fanno il vino e ovviamente ad ogni poliziotto lo sanno tutti qualsiasi poliziotto vigile urbano che giri per strada le vede quelle vigne e se volesse denunciare prendere provvedimenti lo potrebbe fare non si fa nell'ambito di questa di questa concezione nel privato tutto molto è concesso non provare a mettere in discussione però l'ordine costituito altrimenti ti picchiamo nelle piazze rischi di essere arrestato rischi di finire giustiziato o di finire in carcere semplicemente per le tue idee politiche e questo è il diciamo la risposta un po' a quello che chiedevi e anche alla motivazione per cui questa ragazza Nabila dice che non c'è contraddizione tra il suo privato e la sua fedeltà pubblica alla repubblica alla repubblica alla repubblica islamica il secondo capitolo è forse quello più lungo dedicato all'Ucraina quindi un paese che in un certo modo abbiamo imparato a conoscere e a seguire e tu racconti sia i grandi temi le grandi chiavi di quella guerra di quell'invasione sia una dimensione per l'appunto direi generazionale in questo il titolo e l'architrave di tutto il libro ha a che fare con questa generazione di ventenni che appunto tra le fiamme di questi incendi in giro per il mondo sta diventando grande tu scrivi e insomma c'è una persona che tu citi un giovane attivista che ha fatto attivismo in Ucraina prima della guerra evidentemente negli anni di Maidan diciamo nel 2014 e lui appartiene a una generazione che in Ucraina ci racconti viene punita in un certo senso da Putin che attraverso l'invasione attraverso la guerra li costringe in un certo senso a una guerra totale in cui poi saranno loro cioè sarà la generazione che è diventata maggiorenne pochi anni fa a combattere e a morire per difendere il proprio paese e per contrasto adesso non svelo la connessione tra questi due passaggi ma diciamo che a un certo punto ci racconti di una signora che ti dice queste parole Putin perderà ma la sua vittoria sarà aver tolto un paese che odia i suoi cittadini migliori i più intelligenti i più generosi i più coraggiosi qui li chiamiamo la generazione d'oro che ha detto questa signora è migliore della mia dice questa signora ucraina noi siamo stati tristi a lungo e la tristezza ci ha spenti oggi vorrei che potessimo morire noi per conservare l'oro lei è la generazione che è nata ancora nell'unione sovietica questa signora appartiene a quella generazione la generazione di cui lei parla è la prima generazione di ucraini dell'Ucraina indipendente i nati nell'Ucraina post 91 post indipendenza sono quelli che fanno una cosa importante una cosa in realtà clamorosa nel 2000 alla fine a cominciare dalla fine del 2013 iniziano una protesta che è pacifica poi non vince nel senso che il presidente filorusso Yanukovic non dà ai manifestanti quello che vogliono e diventa una protesta molto più aggressiva molto più violenta in cui ci sono molti morti molti morti tra i manifestanti Euromaidan è la protesta è la reazione lo scatto di reni di una generazione che vede un percorso che è già iniziato in realtà cioè quello di allontanamento dall'orbita di influenza della Russia e di spostamento verso l'Unione Europea era stato il presidente filorusso Yanukovic a iniziare le negoziazioni i trattati per avere un'area di libero scambio con l'Unione Europea che non piaceva Putin poi Putin lo chiama e gli dice questa cosa non la puoi fare lui risponde alla piazza non la faccio la piazza si arrabbia e il diciamo il punto più alto di questo piano inclinato dove poi cambierà tutto è quello in cui c'è questo ragazzo armeno ventenne che sulle barricate in piazza Maidanna che in Maidanna dovrei dire perché Maidanna significa piazza in ucraino sulle barricate leggono una poesia di Tara Sheshenko che è il padre della letteratura il poeta padre della letteratura ucraina considerato un po' un padre della patria ucraino e un un agente dei servizi segreti gli spara e lui muore mentre sta leggendo questa poesia da quel momento in poi Maidanna diventa guerra urbana e ci sono i manifestanti che portano i feriti dentro il palazzo di ottobre che hanno occupato e a un certo punto viene circondato e i poliziotti ci lanciano dentro delle granate bruciando vivi o facendo morire intossicati i manifestanti feriti Euromaidanna è una manifestazione è una protesta a cui Roman Ratushni che citavi partecipa un esponente forse oggi è considerato uno dei più famosi esponenti di questa definita generazione d'oro ha 15 anni i suoi professori al liceo lo chiamano il coltissimo black block è un ragazzo molto colto che insomma è famoso a scuola perché legge un sacco di libri un sacco di saggi soprattutto un sacco di libri di storia e i suoi professori dicono se vuoi accamparti in piazza occupare la piazza se tu salti due o tre settimane di scuola sei comunque più avanti dei tuoi compagni diventa famoso durante Euromaidanna a 15 anni per una frase che è se in Russia c'è una manifestazione la differenza tra l'Ucraina e la Russia è questa se in Russia c'è una manifestazione i manifestanti scappano i poliziotti li rincorrono se in Ucraina c'è una manifestazione i poliziotti scappano e i manifestanti li rincorrono Euromaidanna sarà di fatto un po' questo la polizia ha le armi ma alla fine i manifestanti sono che diventano anche violenti in quel periodo ci sono delle aggressioni contro i parlamentari filorussi i politici filorussi i conduttori televisivi filorussi siamo tra appunto inizio a novembre del 2013 va avanti all'inizio del 2014 in un momento in cui e questo secondo me è un altro mito da sfatare visto che siamo partiti da questo concetto per l'Iran Zelensky mentre in piazza succede quello che vi stavo raccontando e c'è Roma Ratushni a 15 anni e c'è la prima generazione di ucraini dell'Ucraina indipendente Zelensky che è considerato da questa generazione uno ancora della generazione dell'Unione Sovietica è ospite è il comico la star ospite al capodanno della televisione russa di Soloviov uno dei più famosi propagandisti russi è sulla Rai 1 della Russia a fare il comico alla serata di capodanno Soloviov che oggi è uno che dice che l'Ucraina è un gatto che va sverminato e l'operazione speciale di Putin è sverminare il gatto Putin è il veterinario e gli ucraini sono i vermi questo è Soloviov Zelensky prima che Soloviov dicesse queste cose era ospite come comico nel suo programma e quei ragazzi questa generazione soprannominata generazione d'oro considerano Zelensky fino a questa guerra un nemico uno troppo vicino alla Russia uno che non ha capito niente di Putin che pensa di poterci mettere d'accordo con le buone nessuno di questi ragazzi che hanno fatto Euromaidan e che oggi sono al fronte ha votato per Zelensky tanti di loro lo hanno rivalutato o lo detestano meno quanto meno da quando è iniziata questa guerra dicendo ha capito che si sbagliava prima Roma Ratushni partecipa ad Euromaidan vince con con perdite quella battaglia perché dal 2014 quella protesta riesce a curvare il destino dell'Ucraina portarlo fuori dall'orbita dell'influenza russa farla avvicinare all'Unione Europea farà tante altre battaglie contro la corruzione contro la violenza della polizia in Ucraina è giovane ma non è un ingenuo quindi sa benissimo che non basta cacciare il presidente filorusso per risolvere i problemi dell'Ucraina farà delle campagne contro i palazzinari corrotti amici del crimine organizzato per cui a un certo punto dovrà sparire per le minacce di morte e si rivolgerà come tanti ucraini a Bruxelles dove trova questo grigio burocatre tedesco che diciamo uno che non finirebbe mai sui giornali perché una figura poco sexy ma che si incaricherà di proteggere attivisti ucraini l'anno in cui Roma Ratushni viene minacciato di morte e deve sparire dall'Ucraina è un anno in cui ci sono 55 attivisti ucraini morti in circostanze misteriose tra cui una sua amica che muore mentre stava indagando sulla corruzione nella polizia di Kherson una città del sud dell'Ucraina per un attacco in cui le gettano addosso dell'acido e muore dopo uno strazio e un'agonia di tre giorni in ospedale è la corte europea che aiuta Roma a far valere i suoi diritti in Ucraina vince la battaglia di Euromaidan vince le battaglie successive da attivista scoppia la guerra e il gabinetto di Zelensky con cui lui aveva pessimi rapporti e li aveva sempre criticato lo chiama dicendo in questo momento però stiamo tutti dalla stessa parte è quindi Roma che ha una squadra di attivisti che è una squadra di persone già rodate che si fidano le une delle altre quindi è già una brigata militare nell'aldestramento militare si passa molto tempo a rafforzare i rapporti di squadra nel loro caso erano già fortissimi partecipano all'operazione per arrestare Medveciuk che è l'oligarca più vicino a Putin che fosse rimasto in Ucraina uno di quelli che poteva dover prendere il posto di Zelensky se fosse riuscito il colpo di stato che voleva fare la Russia in Ucraina all'inizio della guerra e poi viene spedito nel fronte dell'Esta il più sanguinoso e muore ad Izium a 24 anni il suo funerale a Kiev è stato uno dei due o tre funerali più partecipati di questa guerra che ha già fatto decine di migliaia di morti sul fronte ucraino però è la generazione che nel 2014 ha successo cioè toglie l'Ucraina dall'orbita di influenza di Putin e nel 2022 viene punita per quel successo con una guerra totale in cui al fronte ci sono Roman e quelli come lui ed è tra l'altro al suo funerale che vengono dette quelle parole che ricordavamo prima non è solo quella generazione è poi vittima della guerra in Ucraina ovviamente c'è un passaggio che è particolarmente credo giusto ricordare qui questo è un luogo insomma di libri un luogo di letture i libri sono lo sapete meglio di me uno strumento di libertà di identità di emancipazione e di memoria e tu racconti che insomma all'università di Mariupol i libri sono sul marciapiede sono sono espulsi quasi da quell'università colpita colpita dall'esercito russo le finestre non ci sono più e e come quella quell'università come quella biblioteca ci dici di centinaia di biblioteche locali e migliaia di biblioteche scolastiche devastate dall'attacco russo ci dici che insomma non è un caso che ci sia stato questo accanimento sui luoghi che coltivano la memoria e l'identità del popolo ucraino e tant'è che c'è un caso a Cerniv che è ancora forse più indicato indicativo di quanto i russi di quanto il regime di Putin voglia spazzar via ogni traccia possibile di identità e non solo uccidendo ma anche devastando i luoghi in cui l'identità dovrebbe essere conservata sì ottenendo il risultato opposto ma l'immagine che tu racconti è l'immagine in cui ci sono delle finestre l'università di Mariupol che tra l'altro è bellissima è parzialmente devastata come tutta la città martire di questa guerra e c'è questa scena in cui i soldati russi entrano una volta occupata completamente e iniziano a buttare i libri per comodità da tutti i piani dell'università li lanciano fuori dalle finestre e poi si ammassano per essere distrutti e bruciati quando ci sono state le due controffensive ucraine quella nel sud a Kherson e quella nel nord-est nell'area di Kharkiv una delle prime storie che ho incontrato seguendo i soldati ucraini nella controffensiva è arrivando a Kupianska a Izium a Balaklia a Kherson stessa in città che avevano vissuto fino a quel giorno per molti mesi l'occupazione russa a Kherson la prima storia che incontro è la storia di una professoressa che mi racconta che una delle prime cose che hanno fatto i russi una volta arrivati nella città per occuparla è stata portare via tutte le maestre e portarle in Russia per fare un corso di rieducazione perché potessero tornare in Ucraina in tempo per il nuovo inizio dell'anno scolastico con un'altra idea di che cos'è la storia di che cos'è ovviamente bruciare i libri della media del liceo è stata un'azione contemporanea quindi i libri ucraini venivano bruciati venivano sostituiti con libri stampati a mosca importati quando comincia l'invasione nei primissimi giorni notiamo una cosa la guerra è molto caotica ancora più di quanto non lo sia oggi in quella fase ma ci sono alcuni punti in cui si vede che i russi mirano con insistenza l'inizio di questa guerra non era una guerra in cui ci fosse un preciso obiettivo strategico o meglio proprio nelle prime ore l'obiettivo era arrivare all'aeroporto di Ostomel vicino a Kiev con i migliori soldati russi i paracadutisti arrivare nel centro della città isolare rapire circondare i palazzi della democrazia i palazzi del governo costringere Zelensky e le istituzioni in generale i rappresentanti delle istituzioni ad arrendersi e a quel punto Mosca avrebbe conquistato l'Ucraina diciamo senza doverla conquistare avanzare metro per metro in quel momento la guerra serve soprattutto spaventare mentre adesso c'era la battaglia per Bakhmut nelle prime 24 ore serve a terrorizzare per costringere subito a cedere il governo e la popolazione però a nord la prima città importante arrivando dalla Bielorussia andando in direzione di Kiev che incontri questa Cerniv che aveva prima della guerra 300.000 abitanti i russi iniziano non la prenderanno mai ma la cerchiano non la volevano conquistare appunto gli bastava pensavano che a cerchiare fosse sufficiente a far cedere chi stava dentro iniziano a colpire tutti i giorni ad ogni ora con insistenza quello che in Ucraina è l'archivio in cui sono conservate tutte le prove dei crimini sovietici e le testimonianze delle vittime del tempo dell'Unione Sovietica vengono prese di mira sistematicamente dove si può si deportano le maestre e si sostituiscono i libri dove non si è ancora arrivati le scuole erano chiuse ovviamente dall'inizio della guerra ma era simbolicamente molto potente la scelta di colpirle lo stesso e di colpire le librerie in particolare cioè ci sono i dati che cita la presidente della biblioteca nazionale ucraina di Kiev che tra l'altro è una delle più grandi d'Europa su un numero spropositato e inspiegabile se non con l'intenzionalità del numero di biblioteche distrutte rispetto a tantissimi altri tipi di edifici di possibili bersaglie l'ultimo capitolo del tuo libro ci porta in Afghanistan Afghanistan che è stato forse il primo momento in cui hai raccolto hai interessato forse così tante persone al tuo lavoro non voglio sminuirlo ma insomma sui social forse come primo come primo episodio ricordo in quelle settimane tanti giorni anzi di di agosto nel 2021 in cui intanto ci scrivevamo sugli aggiornamenti dell'Afghanistan e se uno andava sul profilo di Cecilia su Instagram ogni 5 secondi insomma se facevi refresh vedevi questa esplosione di follower di interesse di attenzione intorno al tuo racconto poi di lì a pochi giorni si è andata in Afghanistan e raccontato da lì quello che stava succedendo beh sull'Afghanistan potrebbe dire molte cose volevo partire però da qui da un gruppo Whatsapp di solito non è una bella cosa ma in questo caso invece sì un gruppo che si chiama Potere alle ragazze e nel quale ci dici ci sono alcune delle migliaia di liceali di Kabul liceali se fate insomma un rapido conto vuol dire che sono nate dopo il 2001 sono nate negli anni 2000 metà degli anni 2000 bene quelle ragazze non hanno mai vissuto secondo le regole talebane prima del 2021 e tu scrivi hanno immaginato per se stesse un futuro che fino a un minuto prima sembrava normale e dal minuto dopo era impossibile perché incompatibile con i nuovi codici dell'emirato islamico torna molto questa questa riflessione tu usi anche un'altra immagine a un certo punto anche lì efficace dici questo è un regime che ha meno anni dei telefoni cellulari per dire quanto sia quanto sia un battito d'ali questo momento 2001 e poi 2021 da 2021 in avanti eppure come dire se uno guarda all'oggi quindi non soltanto all'immediato post caduta del governo afgano e ripreso il potere da parte dei talebani com'è la vita degli afghani che non erano abituati all'Afghanistan di prima quindi a quello dei talebani che erano abituati quindi tu lo dici molto bene a un grado diciamo di libertà che oggi invece non è più possibile è cambiato qualcosa perché non se ne parla più tanto ovviamente non è più al centro della nostra attenzione arrivo a questo e parto da un da un pezzetto precedente della tua domanda cioè quando dicevi hanno meno anni il movimento dei talebani ha meno anni dei telefoni cellulari perché secondo me noi ci siamo un po' fatti l'idea che fosse in qualche modo vabbè se c'erano prima sono tornati dopo sarà un po' il governo naturale dell'Afghanistan poi ci sono ci dispiace per le donne che avrebbero voluto studiare non possono ma ci sarà un motivo nella società afghana per cui prima c'erano i talebani e ci sono anche dopo la percezione degli afghani quando noi già la Repubblica Islamica d'Iran ha più di 40 anni di storia è una realtà piuttosto solida per gli afghani un gruppo che con la forza è riuscito a prendere il potere nel 96 senza riuscire a governare neanche l'intero paese e nel 2001 quando sono arrivati gli americani non ha combattuto non c'è stata una guerra con l'arrivo degli americani nel 2001 gli americani sono arrivati e mentre gli americani arrivavano i talebani sono scappati poi quello che è successo dopo è stato che i talebani hanno iniziato a mettere le bombe dove sapevano che c'erano i soldati americani e gli americani incominciavano a fare delle operazioni delle forze speciali per stanare i talebani e e ucciderli per la società afghana i talebani sono una piccola parentesi della propria storia recente immaginatevi una sessantenne afghana si pensa che un governo che ha visto per sei anni è il destino naturale del proprio paese l'Afghanistan è un paese molto frammentato etnicamente e i talebani rappresentano soltanto una parte dell'etnia Pashtun che però non è ma non è la maggioranza i più estremisti per usare termini che diciamo nostri di quella minoranza ma le altre minoranze messe insieme sono più numerose di quella e quindi per una Zara e non serve essere occidentalizzati che è un termine molto brutto vivere o essere elite delle capitali gli a Zara sono contadini nel nord ma gli a Zara sono sempre stati perseguitati dai fondamentalisti sunniti sono sciiti i talebani sono uno dei tanti gruppi che loro considerano terroristici che perseguitano gli sciiti e non mai si sono sentiti o si sentiranno rappresentati da loro quindi ecco quest'idea che ci che si possa in qualche modo sintetizzare la maggioranza non la totalità ma la maggioranza della società afghana in un governo talebano è strana arriviamo a quelli che diciamo la fregatura è più evidente cioè quelli nati intorno al 2000 gli adolescenti ventenni quelli nati più o meno intorno al 2001 quando i talebani furono cacciati che li hanno visti vent'anni dopo tornare al potere alcuni sono scappati quelli che ci sono riusciti da qui a noi è sembrata un'operazione enorme le evacuazioni da Kabul le migliaia l'Italia è stato il paese che ha evacuato più afghani di tutti i paesi dell'Unione Europea durante quelle evacuazioni circa 5.000 vi potete immaginare 5.000 persone su una popolazione di 40 milioni tantissimo per quella situazione disperata pericolosa in cui era difficilissimo operare pochissimo rispetto agli afghani che avevano bisogno di scappare a milioni si sono riversati in Iran e in Pakistan per esempio alcuni sono scappati c'è una storia che racconta anche quanto è difficile scappare perché per scappare anche per andare in Pakistan ci vogliono i soldi e quindi ci sono storie di giovani afghani che sono subito scappati in Pakistan e a un certo punto non avevano i soldi per rimanere sono tornati sono dovuti tornare in Afghanistan ci sono delle forme per quelli che sono rimasti delle zone grigie in cui continuare a provare a vivere nonostante i talebani delle forme delle ribellioni silenziose che sono ad esempio che c'è stato un boom di aperture di madrasse di scuole coraniche quando sono arrivati i talebani diceva perché centinaia e centinaia di persone vogliono aprire una scuola coranica ora che sono arrivati i talebani perché contemporaneamente avevano schiuso le scuole femminili e quindi in tanti si sono inventati questo stratagemma che è aprire una scuola coranica e poi una volta che io ho una scuola coranica e ho il corano se non c'è proprio un ispettore talebano che viene tutti i giorni io faccio anche un'ora di matematica e se i genitori non lo dicono se le bambine non lo dicono se i genitori non fanno la spia se siamo tutti d'accordo se ci conosciamo e ci fidiamo si può fare e si fa ci sono ventenni maschi che sposano le loro amiche perché sanno che nell'Afghanistan di oggi senza un marito non puoi fare nulla non puoi avere accesso a un certo tipo di cure non puoi allontanarti da casa più di tot chilometri e quindi le donne hanno bisogno per sopravvivere di un uomo ma per evitare che le ragazze ventenni che mai avrebbero pensato di finire in sposa a un talebano analfabeta e forse violento o a qualsiasi altro uomo a cui vengono vendute contro la loro volontà come si faceva un tempo sposano dei giovani ventenni le loro giovani amiche a cui poi ognuno vive a casa propria l'uomo non chiede in cambio il sesso il bucato il pranzo ma quelle ragazze possono essere riconosciute dal sistema ospedaliero o allontanarsi da casa se se ne hanno bisogno quindi ci sono ci sono diciamo non c'è soltanto non c'è soltanto c'è un altro episodio che a me personalmente aveva colpito moltissimo che è stato il momento delle proteste di per Massamini in Iran in cui abbiamo visto le ragazze afghane in numeri diversi ma scendere in strada a gridare lo slogan donna vita libertà iraniano ed era straziante considerando diciamo le iraniane stanno molto meglio delle afghane è brutto fare di questi paragoni ma non c'è posto peggiore per una donna dell'Afghanistan oggi e vedere quelle ragazze che non hanno niente scendere in piazza in solidarietà con le ragazze delle altre ragazze che comunque quantomeno possono studiare lavorare e vivere da sole era 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 stato era stato molto potente le dimostrazioni di solidarietà diffusa maschile sono tantissime cioè le proteste dei maschi nelle università dopo che le femmine erano già state escluse sono state tantissime il giorno in cui è stata vietata l'università le donne tutti gli studenti maschi sono usciti dalle università in segno di protesta il giorno in cui sono state imposte alle donne di velarsi integralmente in pubblico quindi non coprire soltanto i capelli ma anche naso e bocca e lasciare scoperti soltanto gli occhi cioè era pieno di uomini che andavano in giro per strada velati in segno di protesta le televisioni tollo news tutte le reti importanti c'erano i conduttori uomini velati col burka in segno in segno di protesta è sicuramente la situazione più difficile in cui è anche più difficile vedere dei segni di speranza e dove sono più a caro prezzo le micro ribellioni però anche in Afghanistan ci sono senti c'è un filone comune un tratto comune che è anche quello delle generazioni se vuoi tu a un certo punto nel capitolo sull'Afghanistan ma è qualcosa che tocca anche l'Ucraina anzi forse più ancora l'Ucraina dici beh insomma in Italia c'è un po' questa teoria secondo cui va bene ok forse gli ucraini hanno ragione però non è che dobbiamo anche aiutarli se la vedano loro c'è come dire questa teoria ha preso anche la forma temo televisiva sulla televisione pubblica italiana di qualcuno che ha detto meglio vivere sotto una dittatura ma essere vivi come a dire viveremo tutti sotto una dittatura se avesse sempre funzionato così nel senso che le dittature sono finite perché a un certo punto qualcuno magari una minoranza coraggiosa ha pensato che rischiare la vita fosse meglio per la propria libertà fosse meglio che continuare a vivere in eterno sotto una dittatura se no sì dico fammi dire che serve meglio sentire queste cose sulla tv pubblica e non quelle che invece ho citato poco fa o diciamo visto che ha cambiato canale anche sulla televisione commerciale adesso temo continuerà ma la domanda è questa cosa c'è di diverso rispetto a quello che è successo in Italia tu fai proprio questa analogia dici beh insomma a un certo punto come ricordavi anche poco fa in Italia una settantottantina di anni fa qualcuno ha detto beh no forse non è meglio vivere sotto una dittatura è meglio provare a cambiare le cose e tanti nostri connazionali sono morti per darci la libertà che abbiamo oggi che cosa c'è di diverso c'entra forse il fatto che l'Italia di allora era un paese giovane come un po' adesso non sono proprio uguali i dati ma un po' come i paesi che ci racconti che sono paesi molto diversi ma mi sono andato a vedere i dati a parte l'Afghanistan in cui l'età mediana è 17 anni quindi metà della popolazione ha meno di 17 anni e l'altra metà più di 17 anni in Iran siamo sulla Trentina ma l'Ucraina comunque per quanto su standard europei è un paese decisamente più giovane del nostro l'Italia nel 1950 aveva un'età media di 27 anni oggi sono 47 c'entra anche questo nella nostra visione posso dire distorta di oggi assolutamente sì secondo me nel senso che una delle spiegazioni del titolo e una delle spiegazioni del sottotitolo è che è il racconto che facevamo sulla prima generazione dell'Ucraina indipendente la protesta di Euromaidana questa guerra cioè c'è un'età o chi è che scende in piazza in Iran e chi magari è anche d'accordo con chi scende in piazza ma i rischi di chi scende in piazza non vuole affrontarli a paura legittimamente è probabile che l'avversione a rischio sia più alta quando l'età aumenta ed è ed è ed è probabile che la forza di fare quello che hanno fatto i giovani iraniani ce l'abbiano appunto ce l'abbiano appunto i giovani anche che l'idea che rischiare di morire per la propria libertà abbia senso e che diciamo conservare la propria sicurezza a qualsiasi costo anche al costo della propria libertà sia invece l'unica priorità ecco che rischiare la vita per la propria libertà abbia senso è una cosa che può pensare probabilmente un giovane e non è un caso che le guerre le fanno i giovani tu dicevi che l'Ucraina è un caso diverso non ha demograficamente non è paragonabile al Medio Oriente all'Africa in parte anche all'America Latina il protagonismo infatti dei giovani dei ventenni ucraini qui è raccontato non come siamo la maggioranza quindi siamo protagonisti ma siamo protagonisti perché abbiamo preso in mano noi la situazione nel 2014 siamo riusciti in qualche modo a cambiare delle cose e che e diciamo teniamo fede a quel patto anche se in qualsiasi in qualsiasi circostanza io credo che parte del fastidio verso che parte di quelle idee che poi sono state espresse in modo clamoroso da un personaggio che citavi dicendo meglio vivere sotto una dittatura che essere morti sulla bandiera durante la sulle bandiere durante la rivoluzione francese c'era scritto libertà o morte poi se noi vorremmo vivere in un mondo in cui non c'è stata la rivoluzione francese ok in bocca al lupo al signore che che diceva che diceva queste frasi però viviamo nel mondo in cui viviamo anche perché in alcune fasi della storia qualcuno ha detto facendo un grande regalo a tutti gli altri invece mi prendo dei rischi e provo a cambiare le cose e a volte si fallisce a volte ci vuole molto tempo e ci vogliono molti molti tentativi se poi si riesce si è in piccola o grande parte cambiato cambiato il mondo anche per gli altri Cecilia per chiudere il mondo lo cambia un po' anche chi racconta queste cose e allora ti faccio la domanda che su me tutti hanno avuto in mente a un certo punto soprattutto i genitori ma non solo i genitori ovvero ma come fai a fare quello che fai non hai paura no allora non ci sono tutti hanno paura di qualcosa in alcuni momenti ed è assolutamente sano e utile è un credo che sia una cosa sono un'esperta però credo che sia una cosa più o meno chimica avere paura cioè c'è un leone che ti rincorre io ti segnale paura perché così forse magari ti proteggi meglio inizi a correre e quindi c'è una paura molto sana che è non ho paura a prescindere l'idea di andare in un posto pericoloso e quindi già dalla sera prima non dormo la notte angosciata non ce l'ho e se no farei un altro lavoro la paura di un pericolo presente attuale specifico cioè sei effettivamente non soltanto sei in Ucraina ed esistono dei pericoli potenziali ma sei nella base con i soldati ucraini in un sotterraneo e in quel momento quelli dell'artiglieria russa capiscono che quella è una base ucraina e iniziano a mirare quel punto se non hai paura sei uno scemo cioè no nel senso devi avere paura se no sarai portato a metterti a correre dei rischi inutili quindi avere paura ti serve ad avere in quei momenti specifici l'adrenalina ti serve ad essere più concentrato se devi correre a correre più velocemente a vedere meglio a sentire più cose a reagire in tempi più rapidi il panico quindi l'incapacità di governare quest'angoscia quest'ansia che 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 ti assorbe che è totalizzante che ti annebbia anche che ti confonde quella no è soltanto dannosa non serve a niente anzi a sua volta rischia di metterti più più in pericolo però la paura pesa nella versione 1 sì sì assolutamente c'è Cecilia Sala l'incendio grazie Cecilia e grazie a tutti voi grazie a te grazie al circolo grazie a voi grazie a tutti